indovina il giocatore manchester united edition ok mi sa che sarà dura no non lo so che jemba 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 grande è carson scott carson ben foster ben foster niente no ragazzi chi è james wilson ti vai avanti johnny evans questo è il manchester che ha vinto l'europa league mensa corretto attenzione questo non è impossibile richardson no grande richardson è vero vieni 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 già come io aggiungiamo nel mezzo del gioco un altro no intanto è una maglietta se troppo è quella epoca ronaldo si fosse ma vabbè da questo questo è questo ce la possiamo fare è tipo epoca darmian allo united secondo me all'incirca no no secondo me o è un centrocampista centrale aveva un esterno la faccia di uno che ha fatto anche l'under 21 inglese o per lo meno il mondiale under 20 come si chiamavano un po di giù tipo alla mc tomini che sono andati su in prima squadra con però che poi non sono esplosi negli anni prima cleverly vedi clè centrocampista centrale c'è quella è la fascia da capitano infatti c'è però in coppa però intanto io non dico ma metto sul piatto tu anzi per dire la stessa cosa si può di orgoglio ah beh questo è facile dai quasi facile questo è secondo me per era